Ciao Paola, sono in difficoltà, mi daresti qualche aiuto con le donne? Come muovermi? Sono davvero disperato. Ascolta, già stai commettendo un errore tra i più comuni cioè quello di prendere la cosa troppo seriamente. Si tratta solo di una ragazza, non devi andare a fare un esame. Chiamala al cellulare e chiedile di uscire come lo chiederesti ad un tuo amico. Ma fa attenzione se le parli con la voce tremorante mentre sei al telefono o cominci a dire cose insensate, lei lo percepirà e prenderai un due di picche. Inoltre non devi considerarla come se fosse l'unica ragazza al mondo, facendo così le dimostrerai solo che non hai molta esperienza con le donne e che sei un imbranato, risultato? Al massimo resterete amici. Cerca invece di farle capire cosa vuoi e sii sicuro di te quando le parli o quando vi incontrerete. Non aspettare che sia lei a decidere cosa fare, guidala tu. Sei tu l'uomo ed è giusto che sia tu a guidarla vada bene, non devi costringerla a fare le cose che vuoi, devi solo proporle. Se per esempio lei accetta di incontrarti e passare un pomeriggio o una serata da qualche parte con te proponile di andare a bere un caffè da qualche parte, o fate semplicemente una passeggiata in un luogo con molti negozi. Ma ricorda sempre di essere sicuro di te quando fai le cose. Non è una cosa difficile, quindi non fatti pippe mentali e sii uomo. Ciao!